oh sono cresciato se volete annanzi avviò il computer ho degli aggiornamenti sotto fatemi sapere e 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 ok e 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 dietro quella fessurina paolo quella che mi dici tu nel gulag ci vediamo intendo anche la cosa uti e mi muovere ma nemmeno il tempo di arrivarci già si vede e 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 non posso dire di no il divertimento è finito si va nella zona di guerra Paolo ho trovato un acer monitor gaming 24 pollici display full hd 144hz 1.6.9 luminosità 490 cdm2 0 frame audio speaker integrale che te la parola e che pannello o ti mando il link ti mando il link è proprio il link di amazon battle royale ecco l'uomo mandato il soldato indica un punto di lancio per il team gas in avvicinamento raggio andatevi nella zona sicura fine costa? si andiamo vicino al bunker a sto punto gioco a lì buon punto quante costa? che lo metto? e dice 190 euro questa cosa che avevo trovato io eh non è molto perciò ti dico non è avevo visto sto prezzo non era male ti ricava la verità non mi mi conviverava onestamente proprio secondo me ha perso nello stesso monitor che tenevo io prima che motang ha come secondo monitor ma eh come sigla come è BX no sono morti di tersi una bugia io ci sto cadendo a missile comunque tu hai una cosa del genere si una B qualcosa però 690 euro non è un prezzo cattivo hai capito? no perchè sia come chi la tengo io ti posso dare pure le informazioni capito? bersagli disponibili al lavoro no questo è un KG252 modello nuovo pure no allora già non ne ho messo no è un modello nuovo solito di per certe non ne ho messo prego signori si accomodi no comunque si alla fine dico allora se devi cambiare console devi cambiare console devi andare a console è più evoluta con tempo devi vedere che su 445 ma puoi a prescindere sai perchè come un WC 75 il 75 il 75 150 euro quindi che è combinato? vedo i movimenti mi hanno buttato in te dai ma porco giuda ho si segno uno sciagallo ho si segno uno sciagallo tu mi dicevi se tu vuoi no ma al momento la console non la cambio ti devo dire compagno finito nel gulag ma io ho visto la buona già riavviamo a forza ah